Ciao a tutti, eccoci. Oggi parliamo un po' di Milan, parliamo un po' di Tomori, parliamo un po' di Cialanoglu. Alle mie spalle San Siro, una via che portava San Siro il 23 dicembre, due giorni dal Natale, era completamente illuminata di rosso-nero. Erano i tifosi del Milan, prima di Milan Lazio, abbiamo vinto 3-2. È un rapporto quello fra il Milan e i suoi tifosi, il Milan e la sua curva, che era nato nel derby d'andata, quando potevano entrare allo stadio soltanto mille tifosi, dal momento che il derby da calendario era Inter Milan, non certo dei nostri, e lì ci fu il corteo dei motorini, delle moto, delle mascherine. Bellissima, bellissima la mattinata di Milanello prima di Juve Milan, bellissima la mattinata di Milanello, trascinante, straordinaria, prima di Atalanta-Milan. E quindi ieri sera c'è stata la degna conclusione, all'insegna delle torce, all'insegna dell'entusiasmo, all'insegna dei cori, l'orgoglio rossonero espresso dalla coreografia, ieri, lasciando casa Milan, mi ero accorto che fervevano dei preparativi per una serata di grande patos e così è stato. Naturalmente della serata del tifo rossonero con Paolo Maldini, con Frederic Massara, con altri dirigenti rossoneri, si è parlato su molti siti, ne ha dato ampia copertura anche OneFootball, che vi segnalo perché sostiene l'attività di questo canale YouTube. OneFootball ha anche un'app, io segnalo OneFootball per la copertura delle notizie, segnalo OneFootball per gli eventi, le partite che propone gratuitamente, la app la potete scaricare gratuitamente dalla descrizione di questo video. Faccio una piccola postilla perché alcuni commenti sono diventati francamente un po' banali, un po' stucchevoli, un po' infantili. Naturalmente, evidentemente, OneFootball crede in questo canale YouTube e io segnalo la sua attività e segnalo evidentemente la sua app che potete scaricare gratuitamente nella descrizione di questo video. Ma editorialmente OneFootball fa i commenti e dà le notizie che meglio crede, io personalmente sul mio canale, ma non lo dico a OneFootball, lo dico a voi, do le notizie che meglio credo. Per cui è inutile, ragazzi, insolentirmi tutta la sera o tutta la mattina. Ehi, ma tu dici che non è un ficcane invece loro? Ragazzi, è un giochino che vi chiedo di non fare, cioè, voglio dire, è un giochino... Adesso, se diventate insofferenti sul mercato fin dal 31 di maggio, perché ieri era il 31 di maggio, facciamo una cosa, ci vediamo all'inizio della stagione, perché tutta l'estate così diventa difficile. Io ieri ho detto che non era ancora stato raggiunto l'accordo e che la notizia non era ufficiale, punto. Cosa confermata dai fatti. Poi, per me che mi occupo, e ve l'ho detto fin dal primo giorno, due anni fa, su questo canale YouTube, io sul mercato mi occupo delle ufficialità. Quindi, mi auguro che vada tutto bene per il riscatto di Tomori, si sta lavorando per il riscatto di Tomori, ma se non è ufficiale, non è ufficiale, è inutile che mi sfrucugliate su OneFootball, perché OneFootball editorialmente fa i titoli che meglio crede. Io faccio i commenti, dal mio punto di vista, che più ritengo opportuni in base alle mie fonti, in base alle mie notizie. Per cui, se vi ho detto ieri sera che Tomori non era ufficiale, ragazzi, è inutile fare i capricci. Il tifoso del Milan e la tifoseria del Milan e chi segue questo canale YouTube è molto più elevato rispetto a chi fa i capricci. Se dico che non è ufficiale, non è ufficiale. È inutile punzecchiare. Spero che ci siamo capiti, perché altrimenti diventa difficile. Perché se voi pretendete che io faccia i commenti in base ai canoni di chi, giustamente, legittimamente, dal suo punto di vista, io non contesto, non critico, non entro nel merito, mancherebbe altro, ma di chi ritiene sufficiente un indizio per dire è fatta, liberissimi. Non è questo il mio approccio. Spero di essere stato chiaro e spero di non dover tornare più sull'argomento per non perdere il tempo mio e vostro, che è prezioso allo stesso modo, anzi, più prezioso il vostro, visto che avete anche la pazienza di starmi ad ascoltare. Ora, io non so se è quando il Milan sarà nella condizione di poter annunciare l'accordo per il riscatto di Tomori. È chiaro che se questo dovesse accadere già all'inizio del mese di giugno, se dovesse mai accadere, già all'inizio del mese di giugno, il Milan, all'inizio del mese di giugno, avrebbe preso il portiere titolare del Lille, campione di Francia davanti al Paris Saint Germain, e avrebbe, perché fino a questo momento non c'è nessun tipo di ufficialità, e avrebbe, usiamo il condizionale all'ennesima potenza, avrebbe preso un difensore centrale che viene dal Chelsea, campione d'Europa, e che i tifosi del Chelsea, campione d'Europa, volevano che rimanesse a Londra, dal momento che, quando Tomori è arrivato al Milan, i profili social dei blues sono insorti contro questa scelta di mercato. Però, alla fine, insomma, ci sono ottimi rapporti fra Milano e Chelsea, sì, la volontà del giocatore di rimanere al Milan e a Milano sembra piuttosto chiara, per cui speriamo bene. Però, qui vedo tanti, sento tanti commenti, tante cose, la patrimonialità del Milan, ma i giocatori, noi fino al 23 maggio avevamo un portiere su cui non sapevamo se poter contare per quanto riguarda il futuro, adesso invece ce l'abbiamo. Poi, il campo, il talento, i confronti, ci sarà tempo, ma sul piano della patrimonialità tu hai preso il portiere dell'Ile Campione di Francia ed è tuo, hai acquisito la proprietà tramite il cartellino, tramite un certo tipo di investimento e sai di poterci contare negli anni e sai che lui ha scelto te e sai che vuole restare qui a lungo. Quindi, adesso c'è una base solida per quanto riguarda la porta. Prima era tutta una vicenda nata in maniera particolare, con la trattativa fatta nel 2014 per portare Gigio al Milan, poi l'esordio nel 2015, poi già l'estate del 2017. Insomma, una vicenda parecchio contrastata. Ma non potevamo pensare, sapere, sentire di avere la patrimonialità totale, la sovranità totale sul portiere. Ora invece sì, e poi dovesse venire perfezionato, cosa che a ieri e anche a tutt'oggi non mi risulta sia ancora accaduta, anche se ci sono delle buonissime premesse. L'accordo per Tomori, insomma, il settore dei difensori centrali, con Chiaer, con Tomori, con Romagnoli, con Gabbia che fa parte della nostra Rosa, con Calulu che può essere inserito in qualsiasi momento alla bisogna, con Caldara che sta rientrando al prestito, beh, insomma, mi sembra veramente molto, molto, molto nutrito. Quindi vedo tanti che parlano, tanti che dicono, tanti che giudicano. Mi sembrano tanti mal di pancia, mi sembrano tante rusicate. Non parlo evidentemente dei nostri tifosi o di voi, mancherebbe altro, parlo degli avversari. Cioè, qui tutti parlano, tutti sono bravi, ma a gennaio l'unica squadra che ha fatto mercato è il Milan. Bello, brutto, buono, cattivo, medio, non lo so, ma l'ha fatto il Milan. E adesso siamo ai primi di giugno e alcune cose concrete fino a questo momento le ha fatte soltanto il Milan, parlando di Mignon, parlando del portiere. Poi vedremo che cosa accadrà eventualmente, se accadrà qualcosa con Contomori. Volevo chiudere con Cialanoglu. Non so come finirà la vicenda di Cialanoglu, Cialanoglu ha un'offerta da molto tempo e sta facendo le sue valutazioni. Sapete quanto io sia stato e sia tuttora un fan di Cialanoglu, per cui non rinnego certo l'affetto che mi ha legato a Gigio e non rinnego certo la stima tecnica e, insomma, l'affinità elettiva che il mio personalissimo gusto estetico ha sempre avuto nei confronti di Cialanoglu. Però dobbiamo fare delle considerazioni. Ora, il Milan, diciamo, del 2020 era un Milan molto poggiato su Cialanoglu, cioè il Milan del post-lockdown del luglio 2020 era un Milan basato molto sul feeling tecnico in avanti fra Ibra e Cialan. Era forse quello il succo del senso e del gioco del Milan. Poi Ibra, già nella seconda parte del 2020, ha giocato un po' meno e il Milan si è abituato ad avere altri terminali offensivi, ora Rebici, ora Leao. Non solo, nel 2021 anche Cialanoglu ha avuto il Covid, ha avuto infortuni, ha avuto uno stato di forma brillante poche volte, oppure con Brian Diaz, con anche Krunic trequartista nei finali di partita. Insomma, il Milan ha dimostrato e sta dimostrando di poter crescere sfruttando tutta la rosa disposizione. Cioè, lo spartito, il sistema di gioco, il progetto tecnico di Paolo Maldini, di Frederic Massara e del nostro allenatore Stefano Pioli è un progetto tecnico che ti consente di affrancarti dall'indispensabilità di alcuni giocatori. Per cui, se prima, senza Ibra e Ciala, strabuzzavi un po' gli occhi, oggi Ibra è ancora qui. Evidentemente sarà con noi per tutta la prossima stagione. Hai delle prime punte, stai lavorando sul fronte offensivo, sul mercato, per vedere che cosa si può fare, per vedere se ci sono delle occasioni, delle opportunità, più opportunità che occasioni. E poi, tu, con Ciala decentrato a sinistra e con Brahim Diaz nel vivo del gioco, hai vinto a Bergamo e a Torino con la Juventus. Cosa che all'andata eri stato lontanissimo dal fare, anche perché il gruppo era molto incompleto. Per cui, dovesse essere che non ci fosse, come ad oggi non è stato, il rinnovo di Ciaranoglu, il Milan ha trovato, il Milan si è strutturato, è cresciuto, si è evoluto, ha trovato nuove soluzioni, nuove combinazioni tattiche e tecniche per esprimere il suo gioco offensivo. Quindi, da questo punto di vista, direi che c'è la possibilità di guardare al futuro facendo leva su questa crescita della squadra, perché poi più cresce l'organico, più cresce il progetto, più tu sei libero su alcune pedine di spaziare. Se in alcune stagioni ce n'è uno, in altre stagioni ce n'è un altro, però tu la tua identità, la tua essenza la conservi sempre. Questo è un po' il senso. Ciao a tutti, a domani!